E poi c'è chi dice che l'allenatore nel calcio non conta. Per informazioni, rivolgersi al Valdinievole Montecatini. Giovanni Maneschi ha preso la squadra ai margini della zona play-out e con una cavalcata trionfale l'ha portata in Serie D. Ha vinto grazie ad una squadra che ha saputo ridisegnare nel mercato di riparazione prendendo i giocatori giusti nel posto giusto trovando in Andreotti e la Sheb due uomini decisivi in fase finalizzativa trovando il giusto assetto anche in fase difensiva. Vince meritatamente il Valdinievole Montecatini. Vince sbaragliando tutti gli avversari potendo festeggiare con due giornate d'anticipo la promozione nella Serie A dei dilettanti. Dopo 40 anni il Montecatini torna nella massima competizione dilettantistica con Giovanni Maneschi che festeggia il suo piccolo miracolo da oggi e a tutti gli effetti. Mister Eccellenza